Siamo in compagnia del signor Contissa, Leonardo, che vuole stasera lanciare un appello. Leonardo Contissa è il genitore di una ragazza talassemica e quindi ogni settimana, quando è necessario per le sue cure, ogni 10-15 giorni si rega in ospedale per la sua trasfusione. In questo momento di grande emergenza, come sapete, anche le donazioni di sangue sono calate, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, nonostante gli svariati appelli, comunque c'è una certa paura da parte delle persone a recarsi in ospedale per le semplici donazioni. È un invito che vogliamo fare e lo facciamo fare direttamente al papà di questa ragazza. Buonasera, io sono appunto Contissa, sono genitore di una ragazza talassemica e rappresento l'associazione dei talassemici di Sciacca, dove ci sono molti ragazzi e bambini che purtroppo non possono aspettare i 15 giorni a casa in convalescenza se prima non fanno la loro trasfusione, così come anche tanti altri pazienti per altre terapie, per altre cose, perché il sangue serve per tante cose. Ripeto, siccome l'aves di Sciacca è stata sempre un'aves che si è distinta per l'organizzazione, la serietà professionale ed è sempre così, anzi oggi come oggi a maggior ragione c'è ancora più sicurezza e più disponibilità di chi opera là dentro affinché tutto proceda nel migliore dei modi. È per questo che lancio questo appello di non trascurare chi può, chi può sinceramente di andare all'aves e fare le proprie donazioni di sangue perché ci associamo anche noi all'invito, a un appello molto accurato che questo genitore fa e ci rivolgiamo a tutte le persone che ci seguono. Andiamo a donare perché in questo momento è strettamente necessario per tutte quelle persone che del sangue hanno bisogno per vivere. Grazie.